ecco che siamo quasi devo fare preso adesso mi hai compasso un messaggio su devi fare preso Giovanni l'ho fatto anch'io e per avvisarci che adesso siamo lì dobbiamo fare le persone serie travestirsi le persone serie pro tempore vediamo un po' se ci sta se ci stiamo storia locale vediamo un po' se ci sta se siamo in diretta ok preso preso sì ehm siamo in diretta vediamo un po' sì facciamo qualche condivisione spammiamo sì vabbè sì se no chiede nessuno poi l'ha il fatto della ecco condivisione mettiamo su storici filologi condividi in un gruppo io la 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 registrazione la lascio poi possiamo metterla anche su facebook certo c'è su facebook e su youtube sì uno due iph no etno solo solo in inglese lì sto vedendo alle superi luci siamo sì 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 non si fidava va bene vabbè siamo quasi è tre minuti ancora orbonici no grazie no storici filologici in rete vabbè anche sulle vostre no tua pagina di brunello e quella i non solo la propria adesso devo fare qualcosa non c'è niente ah ok è tutto fatto per te dobbiamo soltanto presentarmi costa io non faccio nessuno ho qualcuno Castiglioni vuoi farlo tu io non ho bisogno di condividere schermo se io sto a fare una cosa poi qualcun altro vuole entrare se vuoi però vediamo un po' no non si può nominare il cost metti in evidenza rendi coorganizzatore io ho diffuso il link dell'invito tra colleghi e studenti e comincio già a vedere i risultati Brunello fa il cost anche tu c'è il coorganizzatore così puoi ammettere qualcuno va bene rendi coorganizzatore ok vabbè noi siamo a tre quindi io inizierei un attimo vado nel gruppo riprendo il libro se no dimentico il nome del libro allora Castiglioni Basciani poi non è lui io ho aperto anche la cosa di fianco così almeno posso infatti adesso come coorganizzatore posso rinominarmi ecco perché sono le 18 io andrei a questo punto vai così va bene va bene va bene buonasera a tutti stasera su Storia Glocale la prima diretta Facebook che facciamo presentiamo il libro di Giovanni Villari che si chiama l'Italia in Albania 1939-1943 un bel lavoro molto corposo pubblicato da Nova Logos e la ANRP l'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia all'Internamento della Guerra di Liberazione sono con noi a parlarne Alberto Basciani Luca Castiglioni Brunello Mantelli io darei la parola come primo di Scal Santa Luca Castiglioni mi prego Luca buonasera a tutti a tutti quelli che ci guardano e un ringraziamento per avermi invitato a fare una piccola chiacchierata sul libro del Dottor Villari che comunque ho avuto il piacere di leggere e anche di recensire peraltro devo dire che io ho visto le basi del lavoro del Dottor Villari già in azione un po' di anni fa a qualche convegno dove abbiamo avuto anche modo di chiacchierare discutere e dibattere dato che dato il fatto che ci si occupa comunque di quel mondo particolarmente complesso così diverso al suo interno ma così ricco di spunti che è l'area balcanica in sostanza veniamo da quella prospettiva di lettura ed è con questi occhi che ho potuto leggere il lavoro del Dottor Villari e oggettivamente se vogliamo prendere un secondo le distanze dal lavoro e guardare attorno al contesto in cui questo lavoro viene presentato oggi al momento storico in cui esce un libro sull'occupazione italiana dell'Albania sulla dominazione italiana in Albania si potrebbe dire che non poteva essere il momento migliore perché comunque in Italia oggi si sta riscoprendo una pagina di storia che ha guadagnato gli allori dell'interesse pubblico per tutti i motivi giusti che però sono i motivi più difficili da digerire cioè per le brutalità per i crimini italiani nei Balcani perpetrati dalle forze armate italiane dalla colonizzazione forzata e altre mille cose che sono state portate alla ribalta di stampa e che sono oggi oggetto sono state oggetto di recriminazioni riletture nostalgiche riletture nostalgiche che stanno anche avendo un certo successo non ultimo anche per la facilità data dalla divulgazione non filtrata e le cosiddette bolle che si possono creare anche grazie ai modelli social network no? Perché allora ci serve un libro in più un libro sulla dominazione diretta italiana dell'Albania? Perché abbiamo bisogno di fare un po' di debunking in generale perché abbiamo bisogno di avere i mezzi interpretativi e le conoscenze pratiche noi come lettori come lettori tecnici se vogliamo come storici come esperti più o meno d'aria ma soprattutto per il grande pubblico perché alla fine un test di storia ha la funzione quanto meno di impressionare e incuriosire tutti quelli che hanno come dire questa domanda di fondo che hanno tutti appassionati di storia che è il perché no? Cioè è la domanda fondamentale prima di tutto il lavoro del dottor Villar in questo senso è interessante perché fa una scelta molto chiara la prima la prima cosa che emerge è una scelta cronologica perché comunque ne abbiamo ne abbiamo parlato insieme comunque con Giovanni c'è una scelta di discutere chiaramente del periodo della dominazione diretta italiana la dominazione diretta italiana che permette di vedere l'evolversi di un particolare unico punto di domanda poi ne parleremo sistema di dominazione italiano su un'area dove alcuni sistemi diciamo alcune interpretazioni di tipo razziale di tipo economico di vari elementi erano particolari e non si potevano diciamo che il portato coloniale italiano a un certo punto doveva essere adattato al contesto si creano addirittura alcune interessanti aporie sull'immagine degli albanesi sul rapporto che gli albanesi avrebbero dovuto avere con il loro stato sotto gestione italiana e con l'Italia e con gli italiani in questo senso la scelta di andare diciamo sul punto di andare a vedere un sistema è coraggiosa perché i sistemi le tecniche i tecnicismi delle amministrazioni possono spesso irretire lo storico in narrazioni anche molto tecnocentriche in questo senso il testo di Villa ricerca di bilanciare molto in realtà la la facile trappola che molti storici hanno che è quella di raccontare un sistema dall'alto e dall'interno presentarlo così com'è per poi trovarsi in grande difficoltà quando ci sono delle contronarrazioni o delle narrazioni subalterne che fondamentalmente è la vera ricchezza della storia che è quella della pluralità delle voci ed è spesso è anche materialmente difficile farlo uscire per problemi linguistici per disponibilità di fonti per accesso alle fonti avere oggi siamo per carità nel 2021 però avere la possibilità di testi che fanno interloquire fonti di natura diversa e avere storici capaci e preparati di farle parlare perché non si possono buttare insieme così come sono perché voglio dire tutte le narrazioni sono effettivamente interne abbiamo narrazioni interne al sistema amministrativo abbiamo narrazioni interne di gruppi e comunità che non necessariamente si incrociano la vita dello storico naturalmente è quello di metterle su carta e riuscire a farle a farle dialogare in questo senso poi si va ad aggiungere un ulteriore strato di complessità che è quello di della compressione cronologica perché il sistema italiano in Albania dura relativamente poco ed è abbastanza intenso cioè seguendo il testo di Hillary noi abbiamo una rappresentazione molto dettagliata di un'evoluzione di un sistema e l'evoluzione di questo sistema mi pare che sia poi quello che emerge è anche evidenza una impreparazione una mancanza di quasi di una progettualità che scappa di mano che deve essere ritarata costantemente a seconda di dinamiche locali e poi sostanzialmente si vede il problema della della diciamo dell'espansionismo della guerra e quell'effetto che la guerra italiana alla Grecia e voglio dire oggi è il 28 ottobre oggi è il giorno del no quanto per me che ho studiato l'ambito greco per un po' di tempo leggere la prospettiva interna italiana sull'Albania vedere la prospettiva albanese sulla presenza italiana e vedere come la rappresentazione della stereografia ellenica è nella memoria generale ellenica dell'invasione italiana come una cosa italo-albanese in alcuni aspetti per poi ricollegarsi a tutte le tensioni dell'epiro settentrionale la creazione della grande Albania è questa la ricchezza prospettica che supera un po' che spinge a superare narrazioni nazionali che ormai sono fuori luogo in un mondo come il nostro che però sono come dire i cui i cui limiti vanno spiegati perché ci sono narrazioni ancora nazionalistiche nei Balcani e non sono i Balcani anzi riemergono nell'Europa contemporanea con grande forza anche in paesi che sembrava avere superate da un caso studio tutto sommato limitato che parla di un numero di persone proporzionalmente limitato per l'Europa dell'epoca in addirittura se vogliamo con un uso della violenza di natura coloniale paracoloniale diverso meno più dimostrativo meno cruento possiamo discuterne diverso dal resto noi comunque riusciamo a estrapolare a vedere una serie di stimoli che si propagano per la lettura di tutte le storie nazionali e del rapporto dei paesi del cosiddetto occidente europeo con l'area balcanica perché il testo di Villari si colloca insieme a tante riletture che stanno venendo fatte delle occupazioni ed è proprio su questo punto che vorrei concentrarmi per questa ultima parte del mio commento è particolarmente complesso parlare diciamo in termini semplici e comprensibili a chi non è addentro alle dinamiche tecniche delle occupazioni delle occupazioni come evento storico discernere fra quello che è la situazione di occupazione militare una situazione di dominio una situazione di di annessione perché poi ci si può per usare un termine tecnico incartare su legalismi su distinzioni che possono portare a far perdere il senso dell'occupazione cioè la creazione di un regime simmetrico la creazione di un regime che spesso è sì è temporaneo nella sua natura ma veicolato a una progettualità un'idea di riformare una certa società sotto dominio militare sotto occupazione militare per i fini del paese occupante quindi noi ed è qui dove il caso dell'Albania diventa veramente interessante cioè non solo naturalmente però noi abbiamo un'occupazione militare da parte dell'Italia del territorio albanese con un tentativo di trasformazione con mille estensioni che avrebbe dovuto toccare tutti gli ambiti della vita sociale civile privata e collettiva degli albanesi non abbiamo una fase di stabilizzazione abbiamo una fase di normazione molto densa e poi abbiamo l'occupazione la guerra l'occupazione e lo svancio verso la Grecia dove abbiamo ancora dove si intrecciano allora rapporti asimmetrici rapporti di creazione di una acceleratissima di un'elite filoitaliana di elementi filoitaliani che avrebbero dovuto servire per l'occupazione di territori avrebbero dovuto servire ancora nella più grande visuale dei Balcani per l'Italia e però tutto cambia perché poi abbiamo la realizzazione abbiamo i rivolgimenti della seconda guerra mondiale abbiamo i rivolgimenti italiani e abbiamo l'occasione della resistenza e la stratificazione di narrazioni nazionali resistenziali contro gli italiani contro elementi della società albanese tutto questo che è un canovaccio non troppo dissimile da altre realtà di altri stati di altre regioni balcaniche sotto occupazione italiana però è arricchito dal fatto che c'è una pregressa tentativa un abbozzo di una società subalterna che viene a creare viene a rompere la semplicità di creare una narrazione resistenziale pura ci sono altri casi interessanti in questa con paralleli interessanti l'Italia occupa le isole dell'Egeo per molto tempo e fa delle opere diverse ma non dissimili l'occupazione delle isole Ionie paradossalmente ha più nella mia opinione sia chiaro ha più di presenta più similarità con ciò che gli italiani mettono in in campo hanno messo in campo in Albania per la questione di essere veloci che non con la lunga con il lungo processo fatto a preso l'Italia dell'Egeo e per altre possibili assimilazioni quindi penso che mi porto quindi al termine di questo mio commento e quello che vorrei che passasse è questo è necessario un passaggio anche attraverso quello che è il testo di Villari che in un certo senso cerca di fornire sia una visione interna strutturata cronologicamente ordinata e discernibile a tutti su quello che è l'evoluzione di un sistema e già parlare di questo è una cosa molto interessante perché lo studio dei sistemi di amministrazione di tipo asimmetrico paracoloniale demicoloniale è già sarebbe già qualcosa di meritevole perché è già qualche cosa che aiuterebbe gli studiosi dall'altro è anche la capacità di poter inserire alcuni elementi locali alcuni fonti locali il punto è che bisognerebbe chiedere al dottor Villari quanto è stato difficile e in che modo secondo lui si può procedere ulteriormente lungo questa via in che modo alcuni approcci di questo tipo possono aiutarci nel continuare lo studio di quelle che sono delle storie che sono state un po' spesso schiacciate cronologicamente solo sulla storia della seconda guerra mondiale e la storia della seconda guerra mondiale italiana per i Balcani è uno dei fronti dove le truppe italiane erano principalmente presenti è uno dei fronti che ha tanti miti addirittura la campagna di Grecia che è una campagna di invasione ha i suoi miti di celebrazione degli italiani o celebrazione degli italiani come vittime in tanti aspetti e sono proprio quelle narrazioni degli italiani come vittime degli italiani come mancanti di agency in molti aspetti che hanno portato alla creazione di narrazioni che sempre sono legate a italiani più bravi è anche una regione dove italiani e tedeschi possono essere comparati side by side e quindi è interessante vedere come anche la storia dell'Albania che ha se noi vediamo ancora i telegiornali vediamo le narrazioni che in Albania ci sono dell'Italia la vicinanza italo-albanese è molto forte sarebbe molto bello vedere qualcosa che contrasti la narrazione degli italiani come bravi sistematicamente nel senso e permetta di arricchire la storia di questo rapporto che fra Italia e Albania continua a esistere malgrado diciamo gli arraffamenti italiani in Albania malgrado il periodo diciamo lasciato italiano in Albania e con questo io direi che non vedo l'ora di sentire il nostro autore parlarci un po' ancora del suo lavoro perché è sempre un piacere grazie la parola da Alberto Basciani prego bene grazie più luogo grazie per l'invito non è un ringraziamento formale ma è davvero sentito perché ricollegandomi a quanto ha detto il allenatore che mi ha preceduto in realtà un nuovo libro sull'occupazione italiana l'Albania sta per arrivare il sottoscritto è l'autore purtroppo gli impegni universitari la la VQR tutta un'altra serie di questioni mi hanno per il momento costretto a metterlo un po' nel freezer però insomma diciamo che ci siamo noi aspettiamo volentieri la prossima primavera il il volume dovrebbe essere pronto quindi per me è davvero molto interessante confrontarmi questa sera appunto con con il volume di Giovanni Villari che conosco per la prima volta questa sera ma di cui insomma avevo letto penso aver letto se non tutto sicuramente il 90% di quello che di quello che ha scritto e quindi proprio mentre ero in fase di scrittura è uscito il suo libro che ovviamente ho acquistato immediatamente quindi è stata una una possibilità di confronto interessante e poi perché magari quando quando dopo che sarà uscito il mio potremmo anche organizzare un'altra cosa per confrontarci anche su come siamo arrivati a studiare da due prospettive un po' però diverse tale questione beh allora la prima cosa da dire è che secondo me il libro di Giovanni penso che siamo quasi coetani penso che ci possiamo dare del tu se mi permetti è un libro secondo me importante è un libro importante perché come ha fatto emergere anche appunto Luca Castiglioni va a gettare un fascio di luce su una questione che per troppo tempo è stata negletta che per troppo tempo è stata toccata con superficialità cioè l'occupazione dell'Albania era vista appunto come una sorta di capriccio diciano fatta alla insomma più o meno male più o meno bene e poi praticamente uno si ricorda l'Albania dopo l'8 settembre del 43 io devo dire invece che finalmente insomma c'erano già state tutta una serie di studi preparatori erano cominciate ad uscire già delle cose però insomma quando esce un volume è un'altra cosa e questo volume mette un po' le cose a posto nel senso che fa vedere come l'occupazione italiana dell'Albania non fu una impresa estemporanea l'occupazione italiana dell'Albania fu una fu un'operazione politica militare economica del fascismo si iscriveva perfettamente nella visione imperiale del fascismo ed era una ed era un pilastro di questa visione imperiale fascista tra l'altro insomma non è che lo devo dire io il fascismo è anche erede della politica estera almeno di una parte importante la politica estera dell'Italia liberale e non c'è dubbio che l'Albania ha costituito da sempre uno dei pilastri della politica estera dell'Italia liberale pensiamo che uno dei più rappresentanti forse il più importante insieme a Visconti Venosta San Giuliano il ministro degli esteri Antonio di San Giuliano conosceva abbastanza bene anche dal punto di vista proprio della conoscenza diretta all'Albania con prima insomma agli esordi della sua carriera politica aveva percorso grazie a uno sponsor grazie ad un giornale aveva percorso aveva navigato dunque le coste dell'Albania conosceva le sue città e tant'è vero che l'Albania diventa proprio un terreno di confronto con la grande rivale adriatica era l'Austria-Ungheria quindi liquidava ma purtroppo sembra un dato di fatto ma non è così perché anche l'ultima monumentale per così dire biografia di Ciano liquida la questione albanese in 448 così anche là come appunto un capriccio del ministro degli esseri italiani no cioè ci si lascia abbindolare da alcune questioni esteriori perdendo di vista però l'essenza ma ecco allora il libro secondo me di Villari che è costituito insomma è un libro serio fatto per bene con documenti molto interessanti tra l'altro tratti anche dagli archivi albanesi e l'archivio l'archivio di stato di Tirana Giovanni lo potrà confermare è un archivio di straordinaria importanza di straordinaria ricchezza tra l'altro meriterebbe alla stessa organizzazione penso anche questo mi puoi confermare meriterebbe da solo uno studio perché è veramente un archivio erede di uno stato totalitario proprio per la sua stessa organizzazione dei fascicoli degli inventari e quant'altro diciamo quindi questo libro riconduce le cose nella giusta direzione e del resto lo vediamo che non fosse una così un tanto che non fosse un fumogeno che doveva distrarre l'Europa e far vedere ai tedeschi che anche gli italiani c'erano dopo che praticamente nella Germania per il momento per le vie pacifiche si era pappata mezza Europa centrale lo dimostra il fatto che immediatamente dopo la conquista l'Italia inizia uno straordinario processo di modernizzazione dell'Albania cioè in Albania vanno a lavorare i più importanti architetti italiani dell'epoca a cominciare da Gerardo Bosio e e soltanto a Tirana esiste un fondo come pari a oltre 30.000 progetti che riguardano non solo Tirana i lavori più importanti ovviamente vengono fatti a Tirana che viene trasformata io vivo all'Euro qui a Roma e percorrere Tirana significa a certe volte quasi ripercorrere una piccola Euro per come è fatta razionalista almeno la parte ma che riguardano l'adeguamento del sistema fognario i ponti c'era un progetto che non era soltanto teso a portare la modernità guardate questo l'ho preso qualche domenica fa a Porta Portese è dopo una contrattazione degna di un ZUC marocchino è una delle tante pubblicazioni straordinarie dell'epoca è un reportage giornalistico immediatamente dopo la conquista e la quantità di energie che vengono convogliate in Albania ci fanno capire che non si saltava soltanto di modernizzare un paese che evidentemente aveva bisogno di tutto perché è vero che anche là bisogna togliere bisogna liberare il campo dalle leggende Zogg è stato a suo modo un modernizzatore a mio modo di vedere e il libro bellissimo di Fisher che vedo che non quello su Lancelus italiano ma l'altro proprio su Zogg and the struggle for stability esatto the struggle for stability lo dimostra chiaramente naturalmente stiamo sempre parlando di una persona che ogni tre mesi c'era un tentativo di rivolta di colpo di stato di un attentato quindi decide di non avere un esercito ma decide di avere una milizia che era più confacente alle sue necessità però qualcosa aveva fatto però ovviamente c'era tutto da fare era il paese più arretrato d'Europa insomma l'Albania ma questa modernizzazione che gli italiani cercano di portare non era rivolta soltanto all'Albania perché l'Albania doveva diventare il doveva diventare il trampolino di lancio verso i Balcani e doveva diventare un trampolino di lancio per confrontarsi con quella che era già diventata la potenza dominante nei Balcani che era la Germania la Germania approfitta in maniera straordinaria della crisi del 29 che colpisce noi siamo abituati a vedere a pensare appunto a New York al Tennessee al Midwest americano alla crisi che investe i grandi centri industriali inglesi francesi eccetera ma la crisi colpisce in maniera particolarmente dura i paesi balcanici che erano paesi fondamentalmente esportatori di materie prime e di prodotti agricoli quindi se un prodotto industriale che valeva 10 con la crisi arriva a valere 5 un prodotto agricolo arriva a 3 a 2 è una mazzota terribile ebbene la Germania approfitta della crisi e con una straordinaria politica commerciale che traeva le basi anche da insomma da una tradizione ben consolidata di presenza in quei posti di fatto diventa la dominus delle economie della Bulgaria della Jugoslavia soprattutto la Romania resiste fino a quando è possibile fino al 40 poi non ce la fa più e quindi anche la Romania è costretta a piegare la testa e a quel punto è chiaro che l'Albania diventa ancora più importante nella visione italiana perché la Germania era diventata dominus in uno dei tradizionali settori che secondo l'imperialismo fascista doveva diventare insomma una sorta di terra di espansione dell'Italia e quindi per questo vengono investite quelle somme così stratosferiche per ammodernare i porti per creare un sistema di comunicazione le città quindi io dico che diciamo che su alcune cose poi possiamo discutere io naturalmente poi quando uscire il libro ci confronteremo molto volentieri io ho cercato di dare un'altra impostazione il libro di Giovanni però secondo me è un libro importante perché definitivamente toglie quella veste un po' macchettistica che c'era a questa ennesima avventura fascista e la porta laddove deve essere portata cioè verso uno studio serio basato su uno spoglio serio della documentazione che su un confronto serio con con altri autori e quindi contribuisce a contribuisce senz'altro ad aprire una strada e naturalmente pagando ovviamente anche impegno come come scrisse car ora senza scomodare però insomma nella sua famosa introduzione alla storia dell'Unione Sovietica io mi sono trovato di fronte a una selva da come posso dire da aprire e poi è questo il punto in cui secondo me si è trovato Giovanni quindi ha tutta la mia ammirazione e soprattutto il plauso per un libro che sicuramente ha tanti meriti ma il merito principale è quello di aver contribuito a portare a mettere nella giusta luce una delle pagine fondamentali secondo me dell'espansionismo fascista in uno dei in uno dei quadranti fondamentali per l'espansionismo fascista e quindi piano piano questo spazzo si va riempiendo perché ormai sappiamo sempre di più sulla Jugoslavia sappiamo sempre di più anche sulla Grecia penso anche ai lavori di Fonsi ma il lavoro anche in quel caso però posso dire pioneristico di Marco Clementi sappiamo e quindi ecco e questo e quindi abbiamo sempre più basi per poter discutere seriamente lasciando le barzellette lasciando le battute appunto ad altri ad altri personaggi di una di un fatto di una questione secondo me di straordinaria importanza io però per Grecia Giovanni siccome io mi sono formato in Romania e in Bulgaria immediatamente dopo la caduta di quei paesi la prossima volta ti prego mettici l'indice dei nomi perché mi ricorda troppo quei libri romeni degli anni più bui della Romania della Bulgaria dell'85 86 87 88 in cui ecco anche perché ci sono tanti nomi nel tuo libro e quindi ecco un piccolo sforzo in più secondo me andava fatto ecco ma insomma voglio dire è una piccola prendila come una piccola provocazione però per il resto io penso che questo sia un libro che poi naturalmente possiamo discuteremo forse ci resta ancora un po' di tempo però questo ci tenevo a dirlo per quanto mi riguarda avendo appunto io stesso intrapreso questo percorso di ricerca che mi ha impegnato per sei anni e quindi essendo finalmente a maggio giugno il libro uscirà e devo dire che ho apprezzato ancora di più lo sforzo che è uno sforzo autenticamente scientifico e importante io per il momento forse ho sforato qualche minuto mi fermerei qui poi possiamo possiamo riprendere la discussione insomma fate voi ecco però per il momento mi fermerei qui grazie grazie Brunello prego accende il microfono microfono in alto cioè in basso a sinistra ok no 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 devi attiva il microfono esatto l'avevo spento per evitare disturbi allora io volevo fare qualche discorso di carattere più generale per due motivi prima prima di tutto in quanto con direttore della collana in cui il volume è uscito per cui lo conoscevo bene in secondo luogo perché appunto con Giovanni Villa che c'era ormai un lungo rapporto di collaborazione di parecchi direi ultradecennale di un paio di decenni come minimo e in parte avevo seguito anche pur senza essere interno al dottorato al collegio di dottorato in cui a cui Giovanni partecipava avevo seguito l'elaborazione del lavoro prima questione che però sembra formale ma un nesso con quanto è stato detto da Luca e da Alberto cioè questo libro avrebbe dovuto uscire qualche anno fa nel senso che Giovanni l'aveva impostato come tesi di dottorato e dopodiché l'ha rielaborato il problema è che il fatto che le barzellette a cui accennava Alberto oppure il vittimismo a cui accennava Luca cioè l'idea che in realtà non si prende tese sul serio il colonialismo italiano e il fascismo italiano neanche ridotto alla Paolo Monelli a commedia o crocianamente a parentesi che invece parentesi non è ha fatto sì che l'interesse editoriale verso un prodotto sull'Albania verso uno studio scientifico sull'Albania fosse molto scarso risultato il libro il manoscritto ha dormito alcuni anni in un cassetto finché finalmente grazie al fatto che sono riuscito io a mettere in piedi una collana che è una collana guerra e dopo guerra tra l'altro una collana aperta se qualcuno fosse interessato presso un piccolo editore romano Novalogos grazie all'impegno anche di un'associazione di memoria come la NRP che si sta trasformando e si è già trasformata in centro studi perché le lezioni di memoria ormai hanno un problema che o si trasformano in centri studi o muoiono perché i testimoni di ciò che è avvenuto nel corso della seconda guerra mondiale ormai sono pochi per motivi biologico anagrafici e questo lo devo dire con un final quindi da un lato l'associazione si è trasformata in centro studi e quindi ha aperto una collana due collane una guerra dopo guerra e una di memoria in secondo luogo si sono avuti a disposizione i finanziamenti perché cosa che va detta pubblicamente senza senza denaro non si cantamesse sostanzialmente cioè allora da dove arrivano i finanziamenti per costruire la collana fermo restando in questo libro anche Giovanni ci ha messo del suo anche questa mi pare giusto dirlo ha messo un contributo diretto arrivano dalla Germania guarda caso e sono un frutto dell'accordo italo-germane della commissione mista italo-germanica che ha lavorato alcuni anni fa per appunto rimettere mano a un ripensamento comune che non è una storia comune un ripensamento comune sugli eventi 43-45 e quindi ha dato vita a una serie di canali di finanziamento allora in modo un po' paradossale questo ricorda un po' appunto l'alleanza italo-germane gli italiani ci mettono le idee i tedeschi ci mettono i soldi e anche i tedeschi ci mettono idee però gli italiani in compenso soldi non ne mettono e questo è abbastanza indicativo va detto pubblicamente perché abbiamo istituzioni che nel susseguirsi di vari governi di destra sinistra centrosinistra di alto di basso di traverso di tuffo grappiato e salto mortale di fatto la ricerca la sottofinanziano poi noi riusciamo a farlo lo stesso perché con pochi soldi cerchiamo di cavarci ogni volta che vado in Germania presentando ricerche fatte mi sento dire avete avuto un finanziamento a meno di mezzo milione di euro risposta dividilo almeno per 5 o per se non per 10 risposta che mi avete fatto uno dice guarda è un mi viene da dire perché siamo pretini perché appunto lavoriamo in condizioni insopportabili quindi questa cosa andava detta quindi se questo libro fosse uscito 5, 6, 7 anni fa come era possibile sicuramente saremmo più avanti tutti perché avrebbe già scavato ma comunque farà ora il suo effetto secondo aspetto biografico Giovanni nasce scientificamente come il lievo di Giorgio Rochard cioè del massimo quello che è stato il massimo storico militare del secondo dopoguerra e questo ovviamente ha un effetto anche nel taglio che lui ha scelto nel dare al suo libro che ha una dando una rilevanza significativa ai fatti militari perché questo è proprio un modo di guardare con il merito come già diceva Alberto di andare a vedere al tempo per primo poi dopo altri hanno seguito la sua scia gli archivi italiani conservati a Tirana anche se qualche autorevole studioso diceva ma là non c'è niente mi ricordo che io insistetti e riuscì anche a inventarmi dei soldi pescati nelle piri di bilancio del dipartimento ho detto vai a Tirana io sono pronto a giurare a mettere tre mani sul fuoco che là qualcosa c'è e infatti c'era come poi qualche altro studioso per cui Alberto non potete vedere è un materiale prezioso anche se quando l'ha visto Giovanni forse l'ordinamento era ancora un po' caotico se non ricordo male questo come quadro generale presentazione del contesto in cui si fa ricerca e questa ricerca se fosse per questo non era un tema di moda ci sono dei temi di moda per esempio se qualcuno avesse fatto proposto un tema la memoria della guerra e dell'invasione dell'Albania nel secondo dopo guerra avrebbe avuto più fortuna editoriale ma che cosa è veramente successo io sono molto affezionato Aranche e la sua formulazione interessava di meno allora come si può fare a memoria di qualcosa di cui esattamente non si conoscono in particolare io non lo capisco però forse sono vecchio e quindi non ci arrivo dopodiché il problema Italia-Albania l'ha già detto in tanti allora qui ci sono due nodi che vorrei sottolineare primo l'Italia punta abbastanza chiaramente nel e questo in realtà come ha già detto giustamente Alberto già l'Italia non è ancora fascista liberale tardo liberale dopo la fine della grande guerra punta in qualche modo a sostituirsi all'impero austro-ungarico nell'egemonia sull'area danubiano-barcanica questo mi sembra un dato assolutamente evidente che rappresenta un segno di continuità poi appunto che ciò che avviene su specie fascista ha una sua specificità perché ovviamente lo stile di egemonico di uno stato liberale monarchico liberale non è quello di uno stato dittatoriale fascista questi sono dei stili in cui si realizza però sotto c'è una linea allora noi dobbiamo vedere sia la continuità sia gli elementi che ovviamente differenziano e effetti ovviamente come giustamente è stato detto il in questo tentativo di trasformarsi nelle redi di ricostruire sostanzialmente uno spazio ex-asburgico a dominazione romana che faceva perno appunto su Vienna Budapest ma anche sull'area sull'area balcanica è chiaro che il contrasto avveniva con la Germania che aveva l'eredità di di fatto che assume su di sé anche l'eredità dell'ex intero strungario del vostro punto di vista tra l'altro anche non tanto in Albania quanto sicuramente in Croazia nella Croazia di Ante Pavelic i massimi rappresentanti del Reich tedesco sono austriaci tranne l'ambasciatore che è un tedesco ma il comandante militare era stato compagno di accademia militare asburgica di Slavko Kvaternik che era presidente della fantomade Croazia indipendente di Ante Pavelic quindi c'è tutta una presenza di funzionari di estrazione asburgica anche perché quelli conoscevano quel tipo di territorio avevano un know-how avevano una conoscenza questo è importantissimo da questo punto di vista secondo aspetto forse meno indagata c'è anche da magari è una mia impressione magari sbaglio c'è anche la tendenza da parte italiana a vedersi come prolungamento in qualche modo come sostituzione di alcuni in alcune aree e sottomane non dimentichiamo il tentativo italiano di andarsi a prendere ad esempio un'enclave ad Ana intanto c'è la c'è la guerra di Libia che noi chiamiamo guerra di Libia ma che in cui in realtà è almeno altrettanto importante il dolecaneso perché il dolecaneso è importantissimo per la parte lo scatrono di sabbia che certamente ha la sua rilevanza la presenza del dolecaneso vuol dire avere un ponte verso quello che è l'ex impero ottomano cioè verso lo spazio adesso nazionale turco il tentativo è di andare approfittando della crisi turca della guerra civile appunto che poi portò alla repubblica di andarsi a prendere a Dana di andarsi a prendere appunto un'anclave e quindi allora da questo punto di vista l'Albania che è appunto va ricordato lo sappiamo tutti ma lo diciamo appunto per chi non è del mestiere storico ha una come è noto una popolazione mista quindi cristiana cattolica e musulmana e nella tradizione imperiale ottomana l'Albania era un fiore all'occhiello dell'impero dell'impero ottomano gli albanesi spesso facciano parte dell'elite adesso noi un altro libro che abbiamo pubblicato quello di Gerd Roicchia che è appunto collega di dottorato di un altro dottorato non quello di scienze politiche ma quello di lettere sulla costruzione della Turchia sull'invenzione della Turchia moderna da parte di Chemala Tatiopi degli intellettuali in cui Gerd Roicchia è un albanese di estrazione musulmana di origine musulmana che non a caso già sapeva un po' di turco moderno e quindi ha colto tutti questi fili cioè gli albanesi quando lui è stato all'università di Ankara per lunghi soggiorni per il suo libro la cosa era voi albanesi eravate i nazionalisti gli ex-lupitilici dicevano tu sei albanese musulmano quindi sei uno dei migliori di quelli che era l'antica tradizione allora c'è un po' cosa hanno in questa tradizione da un lato verso la Grecia di usare i ciamuriotti dall'altro l'idea comunque di poter avere un enclave verso quell'area allora l'idea complessiva importante direi la dimensione che ha sottolineato Alberto Basciani sulle questioni economiche perché io aggiungerei a quello che tu hai detto molto puntualmente che le modalità con cui la Germania costruisce una una sfera egemonica approfittando paradossalmente approfittando dentro la crisi propria della crisi degli altri potremmo dire è basata su un modello che è il modello di Heimerschaft del bilateralismo cioè sostituiamo un'economia di baratto a un'economia di scambio commerciale noi attraverso lo strumento del clearing che è uno dei mecchio di storici manie me lo so di notte clearing in cui sostanzialmente la valuta non circola ma si costruisce un sistema di carattere monopsonico cioè la Germania acquista appunto materie prime delle rate alimentari avverta perfettamente ragione e poi a questo punto manda prodotti fili in questo modo distorce queste cose guardate che le idee accolte molto bene Albert Hichmann in alcuni saggi che gli storici hanno sostanzialmente ignorati io li ho utilizzati ma siamo in pochissime a conoscerli in cui nel treno giovanissimo negli anni 30 scrive una serie di memorie sul sistema degli scambi bilanciati e allora è proprio su quello che il tentativo egemonico italiano si infrange perché paradossalmente quando nel 35 scusami Brunello ti interrompo un secondo per dire il microfono Giovanni non Giovanni Alberto il microfono si si mi senti si adesso si si no ti interrompo su questa cosa dei clinici perché è un momento fondamentale è vero che Alessandro di Jugoslavia e il re che poi viene ucciso da Giustace nel 34 a Marsiglia quando comincia a funzionare dice gli dice a un suo collaboratore a un suo consigliere lo dico così volgarmente eppure amico mio da qualche parte in una lettera la fregatura ci deve essere perché è troppo conveniente capito questo dice la fregatura da qualche parte c'è non so dove ma c'è perché era troppo conveniente all'inizio era una droga questi drogavano mercati letteralmente però c'è anche una base cioè non partiva da nulla gli agenti della fiera di Lipsia erano tutti jugoslavi bulgari romeni eccetera ma avevano dei contatti enormi con la Germania e quindi che risarivano a prima della grande guerra certo è nuovo lo strumento lo strumento è nuovo l'invenzione di Schacht è che il problema è che questo strumento induce dipendenza io non sono mai riuscito a dimostrare per esempio ma secondo me le teorie della dipendenza se uno legge le teorie della dipendenza elaborate nel secondo dopoguerra da Guillaume da Franck eccetera eccetera tu leggi Irsman 38 e sembra ridire la stessa cosa cioè il monopsogno fa sì che tu ti metti a produrre grano invece di produrre il paio industria perché i manufatti industriali ti arrivano dall'altro però chiaramente se tu sei piccolo e quello è grosso è lui che ti impone i prezzi a un certo punto evidentemente quindi tre è un meccanismo di ragione di scambio cosa su cui ho ancora cercato di lavorare da decenni e allora proprio questo aspetto qui diceva nel 35 si fanno i trattati brocchi e nello stesso 35 in quell'import e sport dei paesi dell'area dell'un piano balcanica con la Germania supera quelli con l'Italia l'Italia convince Austria e Ungria a fermare un trattato commerciale stringente però i flussi commerciali vanno dall'altra parte e lì è la debolezza dell'imperialismo italiano è la solita storia avere dei denti più grandi dello stomaco in rado di digerire e quindi di mordere ma poi di rimanere strangolato mi fermo allora questo è un altro questo è il volume di Giovanni aggiunge un tassello a questo quadro che dobbiamo sforzarci di contestualizzare in un contesto che sia sia l'imperialismo italiano come tale ci sono degli studi come quello di Rodogno il pieno più enelistico ma con molte cose ancora da completare secondo me rispetto al volume di Davide io gli avevo suggerito quando me l'ha fatto leggere il lavoro c'è ancora un po' risposta dopo due mesi Bollati Boringhieri me lo pubblica capisco devi anche fare carriera però sono rimasti un po' di bus e quindi da un lato e dall'altro tutto il quadro il quadro da Nubiano Balcanico visto che finalmente con la fine dell'Urs è finita la sua distinzione storia contemporanea storia dell'Europa orientale cominciamo a parlare di storia di tante Europe e i Balcani sono come è stato detto un'area specifica che non può essere ricondotta né all'Europa centrale né in blocco né all'Europa centrale sono tra l'altro furono una zona di frizione e in parte lo sono ancora di più imperi che appunto impero sburgico impero ottomano impero tarista in parte lo sono ancora con mutatis mutandis nel contesto preciso mi fermo qua che lo scusa per l'eccesso logoroico Prego Giovanni a te intervento Buonasera innanzitutto ringrazio Luca, Alberto e Brunello per i loro interventi e vorrei proprio partire dai loro interventi per porre alcune considerazioni ossia i motivi che mi hanno spinto a scrivere un libro sull'Albania la prima considerazione deriva dal fatto che ho una formazione anche da insegnante quindi ricollegandomi sempre quanto è stato detto prima sui libri di storia per le scuole superiori l'Albania compare magicamente nell'aprile 1939 pof l'Italia occupa l'Albania questo è un qualcosa vista la mia pignoleria di cui mi ero accorto già ai miei tempi nel periodo in cui ero studente io stesso ma come mai l'Italia decide di occupare questo paese perché per come seconda considerazione proprio in virtù del fatto che sono stato allievo del professor Rochard la mia tesi di laurea riguardava la campagna di Grecia la divisione corazzata centauro nella campagna di Grecia un'assurdità nell'assurdità impiegare una divisione corazzata in aree montagnose nella zona più montagnosa d'Europa nella zona più piovosa d'Europa nel periodo più piovoso dell'anno ma a parte questo e anche allora mi sono posto la domanda va bene c'è questa campagna che parte dall'Albania per andare in Grecia ma che cosa facevamo in Albania come lo facevamo e da lì è nata tutta la questione che poi mi ha portato a studiare l'Albania ormai da circa due decenni e in effetti come diceva Alberto io mi sono ritrovato in una selva in una selva oscura non ho la tendenza a svenire come Dante ma a parte questo e ho dovuto dipanarmi in mezzo o a mancanza totale di studi o a studi settoriali mi sono accorto man mano che i miei studi procedevano che effettivamente sull'Albania qualcosa era stato scritto ma era settoriale c'erano lavori faccio l'esempio di Piero Crociani sugli albanesi nelle forze armate italiane lavori sull'Italia-Albania dal punto di vista finanziario roselli a cui poi si sono aggiunti negli anni altri studiosi lavori di storia diplomatica e quant'altro ma mancava un quadro d'insieme bisognava prendere tutti i pezzi di questo puzzle e cercare di incastrarli uno con l'altro con 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 importanti lacune ossia molti dei lavori che ho consultato riguardavano il periodo immediatamente antecedente l'occupazione italiana ce ne erano molti di meno sul quadriennio 39-43 quindi queste sono state le basi del del lavoro e poi per l'appunto ho proceduto dando una scansione cronologica a questa breve ma densa occupazione c'è stato un primo momento in cui gli italiani in pochi mesi hanno costruito un nuovo sistema politico economico amministrativo in in Albania c'è stato il il momento del una sorta di epifania riguardo tutte le lacune del fascismo e del momento che coincide con la data di oggi l'inizio della campagna di Grecia e tutte le disavventure italiane nei mesi successivi un qualcosa che fa comprendere agli albanesi quanto la solidità del fascismo sia più una facciata che non altro e poi ci sono i mesi che precedono la la caduta finale dell'Italia e quindi nel dipanare tutto questo ho dovuto baccarmenarmi tra tra diversi ambiti e in alcuni casi ho dovuto proprio procedere ex novo innanzi ormai allora come diceva Brunello questo libro ha avuto una lunga genesi quindi sarebbe stato pronto già anni fa ma per motivi di di vario tipo è rimasto nel cassetto per anni ma già vent'anni fa per esempio io mi sono approcciato al problema degli ebrei in Albania erano gli anni della mia tesi di dottorato bene se il fascismo occupa l'Albania e impianta un sistema similare a quello italiano in Albania farà qualcosa anche nei confronti degli ebrei quindi già vent'anni fa avevo realizzato un breve articolo un breve saggio sulla questione ebraica in Albania un qualcosa che poi negli anni è stato portato avanti da altri studiosi come Sarpatti Capogreco e altri ci sono poi altri aspetti che in realtà mancano ancora un qualcosa di totalmente inedito nel mio libro è la questione del confino degli albanesi non che non si sapesse della presenza di albanesi in Italia nelle isole o nei campi dell'Italia stessa ma tramite documenti ho cercato per quanto possibile di capire chi fossero questi albanesi e quanti fossero in presa ardua perché la documentazione è sparsa e come si vince appunto anche dalle pagine del libro il sistema di confino italiano non è univoco non esiste una commissione di confino che redige dei rapporti ufficiali e confine alle persone ma al di là di questa istituzione di questa ufficialità ci sono altri mille modi poi per realizzare il confino il risultato non si capisce bene quanti siano gli albanesi confinati e poi c'è la questione ad esempio dell'epurazione mille altre questioni tra l'altro un'altra questione importante riguarda poi l'ambito militare la presenza e qui carta canta di un accordo tra i comandi italiani e la resistenza di stampo nazionalista albanese un qualcosa di simile a quanto avvenuto in Jugoslavia quindi siamo già nel 43 ormai è chiaro che le sorti dell'Italia sono segnate ma la resistenza nazionalista albanese pensa adesso a evitare una prevalenza dei comunisti nel proprio paese quindi raggiunge degli accordi con con i comandi italiani per l'appunto e poi c'è tutta la questione a cui accennava Luca della natura di questa occupazione c'è formalmente Italia e Albania sono sullo stesso piano Italia e Albania sono unite tramite unione personale nella persona di Vittorio Emanuele III questa è la forma la sostanza è un'altra c'è appunto il tentativo italiano di costruire una realtà paracoloniale in Albania il problema è questo para questo demi perché il tentativo italiano è una sorta di vorrei ma non posso ossia ci sono questioni politiche propagandistiche strategiche che impediscono agli italiani di rendere l'Albania una vera e propria colonia innanzitutto l'Albania è un paese europeo è uno stato sovrano europeo sicuramente il paese più povero dell'Europa di allora ma era comunque un paese facente parte del consesso delle nazioni europee dall'altro lato l'Albania è strategica è strategica sotto tanti punti di vista serve tra le varie cose anche a strangolare la Jugoslavia la Jugoslavia è presa in mezzo l'Italia dal Triveneto l'Albania a sud così come strategico il favorire il nazionalismo albanese in funzione e anti-Jugoslava e anti-ellenica quando quando serve ma soprattutto in funzione anti-Jugoslava e questo poi da un lato quindi serve in qualche modo coltivare il nazionalismo albanese ma come? in una maniera funzionale agli interessi italiani solo che nel momento in cui le vicende vanno avanti nel momento in cui c'è la campagna di Grecia viene realizzata la cosiddetta grande Albania però a un prezzo molto caro per per le armi italiane per l'onore italiano in quel momento lì i nazionalisti albanesi che pure avevano appoggiato la presenza italiana in precedenza iniziano a condurre una politica propria molto spesso allontanandosi da quelli che sono gli interessi italiani poi ci sono altre considerazioni c'è tutto un gioco che dura decenni riguardo l'immagine che si voleva dare degli albanesi in Italia allora c'è lo stereotipo dell'oriente sotto casa quindi l'Albania è un magico oriente un paese esotico sotto casa nel momento in cui però Zorg sa del potere e viene aiutato dagli italiani si esalta la figura di questo re riformatore quando i rapporti con Zorg peggiorano ma al tempo stesso aumenta l'interesse per un'occupazione diretta dell'Albania come bisogna fare non possiamo gettare fango su Zorg e gli albanesi allora si parla bene del popolo albanese ma male della cricca che lo governa nel momento in cui però gli italiani occupano l'Albania ci si scontra con la realtà ossia in Albania sono presenti militari e funzionari che hanno una formazione coloniale la propaganda da un lato esalta la comunione di intenti la realtà dei fatti è anche una sorta di latente razzismo italiano nei confronti degli albanesi evidenziato dai documenti quindi c'è questo gioco molto complesso tra necessità da un lato e il duro riscontro della realtà dall'altro lato ritornando a una considerazione generale io ho voluto sì da un lato produrre un'introduzione che narrasse tutti gli antecedenti all'occupazione italiana ma non ho voluto insistere molto su di essa proprio perché come dicevo in precedenza già esistevano libri italiani ed esteri su quel periodo storico giusto per fare alcuni nomi i lavori di Pastorelli sulle relazioni diplomatiche italo-albanesi i lavori di Roselli su quelle economiche l'importantissimo lavoro di Morozzo della Rocca sull'intreccio importantissimo tra nazione e religione in Albania fondamentale gli albanesi spesso dicono io prima sono albanese poi sono tutto il resto tra l'altro e qui arrivano aneddoto Giovanni come i turchi i turchi e tutti i miei amici turchi di Università di Università ACTP di Anca quelli credenti non sono mi dicono io sono musulmano in quanto turco ah ecco prima cioè prima sono turco e poi sono musulmano sì sì e gli albanesi sono così e questo non è un non è dovuto ai 50 anni di comunismo è proprio radicato nell'animo degli albanesi esiste questa albanesità che lega gli albanesi di diverse confessioni qui appunto un aneddoto personale quando sono stato in archivio a Tirana parlo del lontano 2006 2007 ebbene il mondo è piccolo a Tirana mi ha lavorato con me una ragazza dell'archivio albanese che per tanti anni ha vissuto Ivrea mi sono ritrovato una compaesana vado a Tirana e trovo una ragazza più o meno della mia età che aveva vissuto Ivrea conosceva benissimo Ivrea benissimo innanzitutto siamo partiti con i pettegolezzi soliti conosci questo questo si è sposato ma al di là di questi di questo dato nella sua famiglia lei è cattolica il padre musulmano la madre ortodossa difatti prima ha iniziato a citare a parlare dei genitori mio padre musulmano mia madre ortodossa che io ho chiesto a lei ma tu cosa sei aspettandomi una delle due confessioni no io mi sono fatta cattolica sono stata ebrea frequentavo la chiesa di San Lorenzo e bui scarto mi piaceva ok questo per dire ritornando alla alla questione nazione e religione in Albania quanto essersi importante tra l'altro uno dei tanti fatti sull'Albania che poco si conoscono in Italia si sarebbe potuto costruire una moschea già sul finire degli anni 30 perché a un certo punto Mussolini ballenò l'idea una volta conquistata l'Albania di costruire una moschea a Roma poi chiaramente la Santa Sede si è opposta però questa idea questo progetto fu fu posto in essere quindi ripeto ho dovuto dipanarmi tra tra mille ambiti e tra mille problemi per l'appunto cercando di bilanciare da un lato il centro quindi una visione dall'alto del sistema io volevo proprio capire quale fosse il sistema costruito in Albania mancava un libro con tale prospettiva dall'altro lato cercare di comprendere come esso avesse funzionato quale quale fosse stato l'impatto risultato della ricerca l'occupazione italiana è stata sicuramente breve per motivi oggettivi una guerra persa ma le cause del fallimento di questa occupazione sono endogene l'Italia aveva buone prospettive in Albania c'era anche un certo sostegno da una parte della classe dirigente albanese ma l'Italia ha bruciato tutto già nei primi mesi dopo l'occupazione solo che in quella fase storica non c'erano le condizioni da parte albanese per potersi sganciare dall'Italia la guerra ha poi consentito man mano agli albanesi di recuperare come poi tutta un'altra questione una propria indipendenza e questo è quanto quanto mi sento di di affermare di dire se ci sta qualcuno che vuole fare qualche domanda un chat oppure può prendere la parola ci sta qualcuno vuole intervenire qualche domanda la conservazione se no da Reynan cinque minuti a testa e riscassa per fare qualche domanda ci diamo una sorta di botta risposta con l'autore prego Alberto hai alzato la mano chi vuole no allora innanzitutto ancora grazie a Villari per aver preso per averci dato anche il quadro del processo del lavoro che comunque hai cercato di fare perché comunque nessun lavoro esiste nel vuoto c'è un contesto c'è un perché non per come c'è la mentalità la prospettiva che lo storico l'autore vuole mettere nel suo lavoro e comunque come già ho detto cercare di presentare un sistema di dare un quadro agli altri studiosi di come funzioni un sistema è già cosa ricca anche perché permette di compararlo con altri sistemi altrove tra l'altro se vogliamo è uno degli ultimi sistemi che viene imposto ed esportato dal sistema fascista italiano dall'imperialismo italiano ci si aspetterebbe che fosse anche il più teoricamente ricco il più rodato e in un certo senso proprio il tuo lavoro adesso non dico più dottor Villa il tuo lavoro permette di far intravedere la pervasività questo l'ho già detto ma anche la totalità della riscrittura di un sistema per l'Albania che va a toccare tutti gli aspetti questo farebbe pensare che viene da un portato di esperienza coloniale da un certo punto di vista potremmo quasi dire che non è necessariamente vero tu hai citato che ci sono certo ufficiali e personale con un'esperienza coloniale alle spalle ma quello che si vede è una trasposizione di un'idea di stato completa dove invece il sistema coloniale in un certo senso è da una parte adattivo dall'altra è abbozzato anche perché ci sono pesanti poteri spesso caricati su una figura principale che però in realtà ad Albania c'è perché in Albania la figura del luogotenente è una persona che ha una capacità dispositiva un potere esecutivo molto potente però ha sotto di sé una grande amministrazione un'amministrazione molto pervasiva che lo allontana mi viene da dire dalla base di potere dall'oggetto della sua dominazione cosa che nelle colonie sono più vicini i governatori coloniali al terreno se mi permetti l'espressione quindi questo è sicuramente il merito quello su cui nella tua presentazione adesso mi sono acuito mi ha colpito è la questione comunque del razzismo perché Alberto ha tirato in piedi una questione che è essenziale che è il concetto comunque della progettualità di una modernità cioè l'esportazione di un concetto di modernità il libro che presenti che ci hai fatto vedere ce n'è naturalmente per tutti i territori soggetti e quindi l'idea dell'esportazione attraverso dell'idea della modernità e della supremazia italiana attraverso l'architettura attraverso le infrastrutture d'altronde il topos che gli italiani hanno esportato le strade cos'è non l'hanno tirato fuori più tardi più una settimana fa ancora questa fregnacia però la questione qual è è la declinazione del razzismo verso gli albanesi come si inquadrano gli albanesi come altri come subalterni rispetto agli italiani non entriamo non addentriamoci troppo nel fatto di che cosa siano gli italiani e che cosa i fascisti creano come idea di italiani però la collocazione degli albanesi all'interno di una gerarchia subalterna diventa importante perché Rodonio parlava delle sfere che abbiamo naturalmente Albania ed Egeo in questo caso in una specie di sfere intermedia verso l'Africa secondo te a questo punto gli albanesi come vengono collocati in una gerarchia sono veramente sono un anello di congiunzione sono una una classe intermedia dell'imperialismo italiano hanno una una funzione in questo e come si rapportano magari anche con tutti gli altri razzismi e poi mi viene da dire razzismo e esportazione della modernità l'idea che l'Albania sia uno stato sovrano ma sia poverissimo e quindi l'esportazione di questa supposta modernità fascista diventi la giustificazione coloniale coloniale fra mille virgolette per carità diventa interessante perché allora mette l'Albania sullo stesso piano del fardello dell'uomo bianco insomma ci ricolleghiamo a cose enormi niente questa era la mia allora è una è una questione complessa e ancora aperta potrei riprendere le le parole di Gaspar Ambrosini che ha tenuto appunto negli anni trenta la cattedra di diritto coloniale quindi una studiosa di diritto vengono prima l'Italia e l'Albania poi l'Egeo poi la Libia e poi l'Africa orientale la questione Italia e Albania sono sullo stesso piano Ambrosini dice sì da un punto di vista giuridico formale altri autori coevi anche da un punto di vista giuridico formale fanno notare come l'Albania sia in posizione subordinata nei fatti è così l'Albania è una sorta di anello di congiunzione appunto tra l'Italia e le colonie attenzione gli albanesi qui poi c'è un dato interessante perché notiamo come ci sia a volte anche negli stessi elementi ci siano visioni contrapposte rispetto a un problema gli albanesi da un lato sono visti come il fratello minore che ha avuto meno fortuna di noi e che deve essere aiutato dall'altro lato sono visti come dei levantini truffatori briganti ruffiani proprio sì e qui riprendo parole che ho letto nelle relazioni e quindi ti posso rispondere nei fatti quindi l'albania in posizione subordinata e poi si lottano tra di loro queste due visioni opposte dell'albanese l'albanese anche qui spero che le mie parole siano poi ben comprese l'albanese è un selvaggio è un buon selvaggio l'albanese vive nelle montagne ancora i valori di un'antica civiltà ma il selvaggio da un lato ha la fierezza ha il coraggio ha il valore dall'altro è ancora feroce ed è anche come dire da sgrossare quanto a maniera e quanto a forma quindi c'è sempre questa doppia visione nei confronti degli degli albanesi quindi se dovessi dare la mia opinione l'albania sicuramente non è una colonia ma sicuramente non è sullo stesso piano dell'Italia e gli stessi giuristi dell'epoca misero in dubbio anche tutta la costruzione amministrativa legislativa riguardo l'albania stessa e chiudo scusate chiudo questa catena di pensiero che ci retisce no è affascinante perché comunque evidenzi con la questione per esempio solo della scolastica insomma delle teorie del diritto coloniale di fine anni 30 c'è un ampio dibattito sulla collocazione di tutti sostanzialmente i non africani all'interno del sistema imperiale italiano perché anche per gli Egei c'è il problema l'idea che potevano essere un trade union verso il Levante in questo caso un Levante mediterraneo cambiano diciamo le cronologie cambiano i numeri perché gli Egei sono molto meno degli albanesi il processo nel Dodecanese è molto più lungo e c'è l'idea che nel Dodecanese si possa trasformare un'elite per l'Albania invece sembra che il discorso sia molto più ampio certo si retisce magari un'elite verso il sistema italiano però l'idea è che si parli degli albanesi come gruppo completo completo e omogeneo malgrado le differenze religiose che invece per il mondo più mediterraneo più vicino alla Turchia la differenza religiosa diventa addirittura quasi l'elemento discernente fra i diversi gruppi e sussistono statuti addirittura diversi per i diversi gruppi religiosi negli spazi del Dodecanese quindi l'Albania diventa un momento in cui tutta la dottrina coloniale italiana pur se l'Albania colonia non è né mai se mi pare da quel poco che comunque si può dire ma nessuno si sogna sia una colonia perché la colonia comunque è un concetto molto forte tutta la scolastica italiana deve tirare la riga perché l'Albania è un momento di passaggio è un momento in cui si inizia a ragionare anche in termini di imperialismo ma bisogna ridefinire un corpus di idee e di concetti che si sono che si devono mi viene da dire quasi totalizzare cioè devono diventare monolitici e devono includere tutto e l'Albania fa fare il bilancio su tutto perché non si dominano più soltanto l'Africa orientale perché c'è l'uomo perché c'è il fardello dell'uomo bianco la Libia perché è la quarta sponda l'Egeo perché ci si voleva mangiare parte del levante o il commercio del levante a questo punto si inizia a dover fare veramente a rendere reale il sistema impero che è un passaggio fondamentale l'Albania diventa nodale secondo me in tutta questa questione e il sistema messo in Albania un'altra considerazione subito dopo l'occupazione italiana viene viene varata una legge che garantisce l'uguaglianza dei diritti tra italiani e albanesi non ci saranno mai leggi che impediranno i matrimoni misti tra italiani e albanesi quindi da un punto di vista formale un albanese che va in Italia ha tutti i diritti di un italiano un italiano che va in Albania ha tutti i diritti di un albanese in realtà la cosa è un po' più complessa ma questo per semplificare l'Italia non ha mai attuato o meglio non ha mai che io sappia redatto progetti per una per un popolamento italiano dell'Albania ma questa idea già dal sul finire degli anni 20 era in qualche modo ventilata quindi ripeto non ci sono progetti organici ma l'idea c'è e il fatto che gli albanesi possano comunque contrarre matrimoni misti con gli italiani indica che in qualche modo la metto proprio su un piano banale questi sono rozzi ma in qualche modo li possiamo fondere con noi quindi razzismo nei confronti degli albanesi sì ma allo stesso tempo possibilità di diluirli all'interno degli italiani per poi rendere veramente l'Albania una testa di ponte per una ulteriore espansione o economica o anche territoriale o militare nei Balcani grazie ci sa qualche altra domanda prima posso dire una cosa io prego no io ricollegandomi a questo volevo dire che un grande giurista italiano degli anni trenta Angelo Piero Sereni costretto all'esilio per le leggi radicali negli Stati Uniti scrisse che l'Albania rappresentò il il prototipo della il prototipo perfetto della degli stati degli stati fantoccio che poi l'asse avrebbe costruito in Europa nel 40 nel 41 quindi lui lo fece ebbe questa intuizione dal suo esilio di New York e secondo me aveva ragione ma questo ci porta ancora un'altra questione io non credo Brunello che sia il fatto che prima di Giovanni insomma poi anche io avevo cominciato a scrivere delle cose in degli articoli pubblicati insomma e altri ancora però il fatto che mancasse una ricerca organica sull'Albania e sull'occupazione italiana dell'Albania secondo me non era soltanto questione di moda non è soltanto questione di fondi è anche questione che si tratta di un problema maleditamente complesso estremamente complesso è un ginepraio cioè è un ginepraio io mi sono fatto male penso che cosa valga per Giovanni perché tra l'altro è anche un caso che stati perfetto per questi post imperial studies perché l'Italia è vero conquistava l'ho detto io per primo lo stato più arretrato d'Europa però questo stato più arretrato d'Europa aveva delle elite ed erano delle elite post imperiali che spesso venivano da Alessandria d'Egitto da da Istanbul che tu citavi prima quindi da Costantinopoli venivano da Salonicco cioè erano famiglie importanti erano famiglie che avevano avuto una tradizione di potere potere politico potere militare e questi bisognava trattarli in un certo modo davvero è interessante questo fatto e Giovanni penso possa darmi ragione che c'è un'attenzione certosina da parte delle autorità fasciste delle autorità italiane a non far mettere minimamente il naso agli airbrush in tale questione l'unico l'unico che un po' ci riesce perché già stavo in Albania è Terenzio Tocci di cui ha scritto una monografia sul quale ha scritto una monografia Cacca Francesco dall'inizio però erano due e combinava Casini è allucinante di questo che parlava di una insomma quindi è una questione estremamente complessa secondo me anche questo è uno dei motivi per i quali è stato un po' lasciato perché adesso che ci sono documenti sul sottosegretariato degli affari albanesi gabinetto albania sono disponibili quelli dei carabinieri della guardia di finanza più tutti i documenti disponibili in Albania l'Accademia dei Lincei l'Accademia di San Luca insomma eccetera eccetera è un ginepraio ti fai veramente male perché per esempio la stessa collocazione del Partito Nazionale Fascista l'Albania è l'unico paese in cui viene costituito un partito fascista fuori dall'Italia e anche là non sai come maneggiarlo perché è qualcosa di evanescente e di importante allo stesso tempo quindi io credo che ci metto pure questo motivo e questo è un altro motivo secondo me di merito che va scritto al libro di Giovanni insomma è una storia affascinante ma terribilmente complicata terribilmente terribilmente difficile e secondo me è importante ecco non solo averla fatto uscire da quegli due trafiletti che poi non stanno soltanto nei libri per le superiori voglio dire io da studioso di storia balcanica sono molto attento a queste cose quindi ma secondo me c'è anche questo motivo fa cioè l'occupazione non è soltanto un'occupazione militare è molto 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 di più molto molto più complessa bisogna rifarsi bisogna confrontarsi con una con una società che è una società arcaica ma complessa allo stesso tempo e questo mette e e le difficoltà che ebbero allora i fascisti adesso ce l'hanno gli studiosi quando poi devono trarre un zucco da questa storia ecco tra l'altro io mi aggiungo rapidamente Giovanni dato che tanto che Armando ci vuole mandare tutti a cena alle 19.90 mi aggiungo rapidamente prima che tu rispondi a entrambi a quello che ha detto Alberto ah sono perfettamente d'accordo però ogni ricerca storica seria è un maledetto ginebraio ma sì per carità questo va detto perché no per carità anche quando certo poi esistono quelli che spaziano dall'età antica all'età contemporanea e rendono tutto facile ma quelli hanno altri nomi e altri hanno altre notorietà e hanno altre succo dentro quindi questo è importante hai perfettamente ragione il caro urbanese particolarmente intercato quello che a me veniva in mente sentendo voi proprio molto velocemente è l'idea che da un lato è un impotere di di natura comparativistica da prendere con le molle ovviamente uno in realtà ho l'impressione che con tutti i limiti la politica italiana verso l'Albania punti in qualche modo a realizzare una forma di modello cioè creiamo un territorio modello che non deve fare i conti con tutte le stratificazioni precedenti dell'Italia monarchico fascista con cui comunque dobbiamo fare i conti in territorio nazionale e quindi influere ma in qualche modo abbiamo un ruolo demiugico la stessa cosa è quella che fanno i tedeschi per esempio con le zone occupate dell'Europa centrale cioè l'idea di creiamo per esempio con il general governamante un mustergao cioè un distretto modello da questo punto di vista quindi c'è questa idea che tu fuori fuori e ricostruisci a parte i modelli giuridici il general il general governamante è una colonia l'Albania non l'ha dichiarata l'Albania non l'ha affatto si evita assolutamente il termine però in qualche modo l'idea facciamo un ruolo di modello una cosa che a me veniva in mente e me l'ho scritta appunto è se non si possa fare una sorta di parallelo tra l'Albania come parte del regno di Talbia e la parte la parte la cechia la cechia residuale amputata dai suddetti e dai stati annesi che viene appunto dal 39 quindi contemporaneamente in questione di mesi rispetto all'Albania contemporaneamente viene retta a quella cosa che non è una colonia come il general governamante è un res protettorato una forma un protettorato che è ancora cosa diversa dall'Albania che viene incorporata ma nei fatti lì viene creata una sorta di milizia di esercito di Bohemia Moravia un modello militare viene creata un'organizzazione politica collaborazionista e da questo punto di vista aggiungerei una cosa che dice il razzismo ma il problema è che gli albanesi non sono slavi così come i cechi i boemi i moravi pur essendo di lingua slava sono considerati germanizzati di fatto non sono un genere misto mi stavo chiedendo se nel caso italiano il razzismo e quindi l'idea eventualmente coloniale si poteva applicare magari al mondo slavo ma non a quello albanese cioè il razzismo da un punto di vista razziale gli albanesi non stavano più in alto rispetto agli slavi perché gli slavi non sono da questo punto di vista visto che sugli slavi ci sono gli studi appunto sul razzismo italiano molto forte è una dimensione genetica che poi si ribalta questa cosa tra l'altro non è sparita dicono questo oggi alcuni esponenti del nazionalismo radicale sloveno hanno scritto libri da buoni per sostenere un tavolo ovviamente sbilenco ma da leggere in cui dicono gli sloveni in realtà sono mica slavi parlano la lingua slava ma sono in realtà un'altra cosa il mondo slavo comincia un po' più a sud comincia con la Croazia allora questa è una cosa che viene da lontano che però guarda caso poi riemerge tu sei sempre il terrone sempre qualcun altro quello che sta un po' più a sud di te per usare una volgarità da bar mi stavo chiedendo se in qualche modo non entrava anche questo elemento gli albanesi sono etnicamente più assimilabili degli slavi da questo punto di vista quindi meno diversi se in questa diversità politica di cui parlava Luca prima e di cui parlava anche Giovanni prima ancora non c'è anche questo elemento qua rispondo velocemente sì c'è questo elemento ed è importantissimo proprio in funzione antislava diciamo che gli albanesi sono visti dall'alto in basso più che altro a causa di cinque secoli di dominazione ottomana dai primi del novecento e molto di più dagli anni venti trenta e quaranta vengono compiuti tutta una serie di studi linguistici letterari archeologici sull'Albania che esaltano l'occidentalità dell'Albania mirano a sottolineare quanto l'Albania nei secoli si è sempre stata legata all'Italia nel 1940 viene eretta una statua in onore di Skanderberg a Roma per dire quindi si sottolinea come nei secoli gli albanesi siano rimasti un'isola pura in un mare slavo e questo poi come dire avrà gli albanesi sono gli ariani dei Balcani vengono dalla propaganda appunto denominati così il grosso problema degli albanesi sono cinque secoli di dominazione ottomana che hanno dato tratti orientaleggianti levantini a questo popolo tratti che però il fascismo deve con la sua opera modernizzatrice eliminare un'altra nota veloce mi riferisco a quanto ha detto prima Alberto adesso ho perso il momento del suo intervento però mi sono segnato questo no no mi sono segnato questo per quanto riguarda l'Albania e le repressioni poste in essere dagli italiani in Albania contro le resistenze di vario tipo le repressioni italiane in Albania sono meno virulente rispetto a quelle in Grecia o in Jugoslavia almeno fino a un certo periodo perché in Albania esiste un governo proprio nazionale esiste quindi un presidente del consiglio albanese un'autorità nazionale che gestisce l'ordine interno quindi i militari italiani hanno le mani legate solo a metà 43 quando l'Albania sarà dichiarata la zona di operazioni solo in quel momento allora saranno poste in essere operazioni di rastrellamento e repressione ad ampio raggio ad ampio spettro non mi ricordo più perché mi ero segnato di dire questo ma comunque va bene qualcuno chi è che chiude insomma chi dice Alberto chi dice Alberto chi chiude vuoi chiudere tu la considerazione finale va bene io ho mandato un messaggio a tutti ringraziando quelli che hanno assistito alla presentazione e confermando la registrazione resta su facebook e quindi è utilizzabile tranquillamente basta citare la fonte anche a livello didattico per chiunque ritenga di poterla utilizzare come vuole ma io direi che intanto che questa prima presentazione appunto è andata bene credo che tu Armando come dominus e spiritus rector possa essere soddisfatto grazie è andata molto bene il dibattito mi pare è andato sia stato molto interessante la presenza qui non so su facebook è stata sicuramente non irrilevante perché 6-7 persone che hanno assistito sono comunque vedendo gli altri ricordi sono abbastanza poi infatti infatti no è veramente complessivamente 1-40 insomma di dibattito appunto direi che 1-40 trovo che appunto 4 studiosi grandi 5 studiosi perché tu hai scelto di fare soltanto il notaio ma potevi anche intervenire nel merito sono chi si occupano di cose e hanno impostazioni tra loro diverse comunque e che hanno interessi in punti di vista diversi hanno interlocuito colloquiando fra loro in modo assolutamente proficuo io ho imparato da quello che hanno detto appunto Luca e Alberto ci metto anche Giovanni ma con Giovanni c'è un dialogo continuo quindi non è quello che ha detto Luca e Alberto con qui o meno possibilità di confrontarmi ho imparato delle cose e quindi ci tengo a ringraziarvi per il dibattito lo scientifico ci fa così purtroppo è difficile farlo capire a molti gestori di mass media che preferiscono le torte in faccia ma noi le torte in faccia non ce le tiriamo casomai ce le mangiamo assieme l'unica cosa per chiudere avevo parlato qualche giorno fa con Giovanni mi piacerebbe fare una puntata su M e Roksha fra qualche mese cioè vedere anche l'Albania gli anni 50 60 e 70 non solo della preoccupazione italiana insomma poi se vogliamo bisogna coinvolgere anche Gert che c'è cresciuto sotto Enverosa fuggendo poi in Italia dove poi ha studiato ha fatto il lavoratore precario in Mucchio di Robb ha studiato all'università ha fatto il dottorato quindi ha un'italo-albanese insieme durante la crisi successiva il primo governo Berifio quando l'Albania quando l'Albania esplosa a questo punto quindi lì è proprio un'esperienza vissuta e cambiamo anche lui in questa casa va bene allora io vi ringrazio e buonasera a tutti quanti alla prossima buonasera buonasera grazie Giovanni scrivo brevemente ci sentiamo buonasera 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 buonasera